Un'alleanza tra quattro gruppi criminali per lo spaccio di droga nell'area nolana in provincia di Napoli. 35 indagati di questi 18 colpiti da misure cautelari. Questa mattina nelle provincie di Napoli e Varese i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a due distinte misure cautelari personali. 13 provvedimenti in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 5 divietiti di dimora di cui 2 nella regione Campania, 1 nella provincia di Napoli e 2 nel comune di Cimitile. Nei confronti di 18 indagati ritenuti gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall'essere composto da più di 10 persone e dalla disponibilità di armi, nonché detenzione ai fini di spaccio. Le indagini condotte dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Nola hanno permesso di documentare le dinamiche inerenti alla gestione dell'attività di spaccio di stupefacenti nell'area nolana, individuando quattro distinti gruppi criminali attivi rispettivamente nei comuni di Nola, Casamarciano, San Gennaro Vesuviano e Cimitile. E' stato accertato inoltre come i sodali intrattenessero rapporti con soggetti riconducibili a circuiti criminali operanti nel comune di Napoli, funzionale all'approvvigionamento della droga. Nel corso delle indagini sono state tratte nel resto in fragranza di reato altre 5 persone, sequestrando circa un chilogrammo di sostanze stupefacenti di vario genere, cocaina, hashish e marijuana. Sono in corso 17 perquisizioni delegate finanziate alla ricerca di sostanze stupefacenti nei confronti di altrettanti indagati non raggiunti da misure cautelari.